Nel comune più grande della provincia di Salerno, fra quelli alle urne Ponte Cagnano-Faiano, che è stato amministrato dal sindaco scende Ernesto Sica per circa 18 anni, sarà ballottaggio. I dati ufficiali di uno spoglio che precede molto a rilento dicono che nessuno dei cinque candidati a sindaco è riuscito a superare la soglia del 50% per vincere il primo turno. Dunque si torna alle urne domenica 24 per eleggere il primo cittadino e sarà sfida tra Giuseppe Lanzaro, esponente del centro-sinistra in quota PD, e Francesco Pastore, rappresentante del centro-destra che corre con forza etale e sostegno della Lega di Salvini, per la quale è candidato al Consiglio Comunale e sindaco scende Ernesto Sica. E in testa Lanzara, che al momento ha raggiunto il 47,2% delle preferenze, seguito da Pastore al 38,11, più staccati Angelo Mazza all'8,39, Giovanni Ferro 3,35 e Francesco Longo 3,11.